Fondamentalmente bisogna riadattarsi al peso, quindi all'inizio sia i muscoli che il sistema dell'equilibrio, che il sistema vascolare devono riabituarsi alla normale gravità sulla terra. Oh vero Daniele, diciamo che durante tutto l'addestramento è qualcosa sul quale ci esercitiamo e poi ce lo portiamo anche qui durante la permanenza sulla stazione spaziale. Over, ciao Flaminia, ma noi imbrolliamo un po' perché usiamo l'orologio, quindi siamo molto regolati sulle 24 ore terrestri. Over, ciao Aurora, sì come dicevo prima è stata un'emozione fortissima, anche un'impressione estetica molto forte perché è un'immagine proprio anche di grande bellezza. Over. Grazie. 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 Grazie.